ciao a tutti aspettiamo che arrivi qualcuno e parliamo di gdpr oggi ovvero vi dirò la mia sulla gdpr vi dico anche cosa fare e cosa non fare ma in realtà non vi dirò cosa fare ma vi dirò bene come funzionano le cose quindi aspettiamo che arrivi qualcuno e poi cominciamo a parlare di questa maledetta gdpr che vi fa morire a tutti quanti quindi aspetto che arrivi qualcuno ciao reppo ciao dimmi solo se si sente l'audio così capisco bene se tutto a posto e aspettiamo due tre secondi che arrivi qualcuno e poi ovviamente per chi guarda in diretta porti avanti questa parte cioè perché guarda in differita portata avanti questa parte benissimo allora ciao reppo come stai come vanno le cose oggi si vende si vende c'è movimento ciao daniele come stai che stai a fare stamattina aspettiamo che si colleghi qualcuno è stata una diretta lampo quindi in realtà aspettiamo un attimino mi confermate che l'audio a posto tutto ok mettete qualche like così vedo che siete vivi parliamo di gdpr ok ho visto il like spuntare aspettiamo che arrivi che si connetta qualcuno onorario un po stronzo però tanto volevo lasciare fare un video per parlare di questo di questo argomento ciao valentina sezzo ma siamo molto distanti ok runo alz come ogni mattina bravo daniele così si fa quanto hai speso stamattina però perché adesso confrontiamo i business manager mi voglio sapere quanto hai speso non mi interessa neanche se sei in roi voglio sapere quanto hai speso e perché è così che il bravo advertiser ragiona rapo dice ho già speso 250 euro per questo di gdpr bravo bravo ragazzi spendere è giusto è una malattia giusta che dobbiamo avere è un male necessario dovete spendere spendere sempre di più ovviamente per spendere bisogna guadagnare quindi in realtà è un riflesso giusto quindi spendere è giusto spendere bene soprattutto spendere quelle mie cose a 400 euro di ad spend bravo ok solo stamattina 400 bravo bravo non chiudere la giornata meno 2000 sennò che ci siamo svegliati a fare di 2000 di spesa ovviamente ovviamente sì io ho avuto un po di casini ieri con un paio di campagne perché non mi non mi spendevano e ieri è stato un bordello per stagio di pr di merda è un cazzato come una bestia perché mi ha fatto perdere un sacco di soldi quindi sono incazzato nero e perché non mi giravano non mi giravano le azze ieri ho avuto un grosso problema ho delle campagne che girano ai ticket dove spendiamo un sacco di soldi cioè quelle campagne che runano d'alto budget e non spendevano e quando non spendono le campagne è un cazzo di casino ieri ho avuto dei casini abbiamo perso un sacco di soldi per sto gdpr di merda e adesso vi dirò come la penso io allora in realtà non vi dirò cosa fare ma vi dirò cosa sto facendo io innanzitutto ciao marcello innanzitutto allora dovete calmarvi ragazzi dovete darvi una calmata con sta cazzo di gdpr va bene quando nel momento in cui le persone fanno una cosa la fanno in massa è il momento proprio giusto di non fare un cazzo ok non fate niente state fermi quando tutti si sono fatti prendere della paura state fermi è la stessa regola di quando si investe ok quando tutti investono su un qualcosa non investiteci questa è la regola della paura è la prima cosa che dovete sapere non fate nulla ok i termini sono scaduti ok sono scaduti ieri lo sappiamo tutti tanto adesso ci sarà una deroga non abbiamo un governo quindi in realtà se avete i consensi delle persone che hanno fatto opt in delle persone che dal vivo vi hanno lasciato il consenso non vi preoccupate bene non vi preoccupate non fate le cose di fretta non correte perché l'hanno fatto tutti ieri è stata una giornata di merda so cazzo di gdpr ci ha sputtanato il lavoro a tutti a dirtizer almeno le campagne in spagna non tanto sono continuato andare bene quelle in italia è una merda cioè ho un business manager che gira con delle campagne veramente che spendono tantissimo ieri 30 euro sono sono account da 5 mila euro al giorno 30 euro quando vedi 30 euro ti girano i coglioni vuol dire che tu stai perdendo soldi quindi in realtà cosa succede stamattina ho anche chiesto conferma altri colleghi in realtà ieri è stata una giornata che ha un po sballottato tutto facebook non ha funzionato bene stanno aggiornando algoritmo queste cose succedono ho avuto per adesso per una conversione fa bene parlare ok quindi in realtà è stata una giornata strana dal punto di vista delle campagne che non andavano bene cioè non tutti però per qualcuno sono andate malti poi ieri per la vendita di corsi ai ticket che ho non sono andate bene abbiamo perso un sacco di soldi ieri come giornata non ho fatto un cazzo non ho mosso un dito per la gdpr non me ne frega niente ok mi hanno già minacciato di denuncia certi lead sì va bene fate quello che vi pare tanto io non farò un cazzo finché non si capisce meglio cosa fare anche perché probabilmente ci sarà una proroga ci sarà una deroga cambieranno ancora la normativa e romperanno ancora i coglioni quindi in realtà se non è non essere in regola oggi è che dovete essere in regola prima ok va bene avere i consensi poter dimostrare i consensi ok e invece adesso per quello che verrà tanto ci sta ci sta aggiornando per dirvi gli opt in ok che sono i form dove tu metti le spunte dove dovresti mettere le spunte per i consensi al doppio consenso tanti form vengono dall'america non sono aggiornati inutile che ci ammassiamo adesso con ste mail di gdpr io il prossimo che mi manda una mail ieri sera ancora ci pensavo vado a sotto casa i citofoni di una sberla non mandate ste mail di aggiornato basta aspettate un attimo ok lo sappiamo lo sappiamo benissimo siamo in una situazione particolare adesso in italia non stiamo non abbiamo neanche un buon governo cosa dobbiamo fare a gdpr cioè calmiamoci cerchiamo di fare attenzione nel fare le cose bene come si facevano prima è ovvio che se spammi è finito il gioco ragazzi cioè non cosa stiamo parlando se spammi se fai spam su un database rubato quello è in realtà se invece tu hai fatto le cose bene prima hai raccolto i consensi oggi non ti devi preoccupare poi io non sono il tuo avvocato spendi qualche centello dal tuo avvocato e fatti dire cosa fare se il tuo avvocato sa perché nella maggior parte delle volte neanche gli avvocati sanno che cazzo stanno dicendo quindi non vi preoccupate non andate in palla cerchiamo di prendere le cose dal verso giusto il problema grosso è che quando le persone vedono fare un qualcosa in massa scatta la paura e ciao e beh tutti cominciano all'armarsi a fare puttanate ciao erica ciao elisabetta e quindi non è questo il modo giusto di agire non si fa così è come se oggi tutti vedono che le criptovalute scendono e tutti vendono ragazzi non è il momento giusto di vendere perché perché la paura e fa fare le azioni sbagliate sempre è stato così nella borsa ne abbiamo tutti i giorni una prova quando c'è la paura è la costante che fa guadagnare di più le persone fa perdere più soldi alle persone quando c'è la paura di mezzo la paura di massa soprattutto bisogna avere il sangue freddo e i coglioni gelati come si dice di stare fermi ok alt ieri è stato un massacro io odio tutti perché ieri mi hanno rovinato la giornata queste mail le odiavo ogni mail che mi arrivava di gdpr gp o lo diavo li termini gp o lo diavo messo anche un post dove ho proprio dichiarato non ho adeguato un cazzo chiaramente c'è il mio tecnico che sta lavorando sulla piattaforma ovviamente io sono ho anche delle consulenze ovvio legali per capire se quello che faccio è giusto o sbagliato ma in realtà c'è con quattro soldi su ubenda risolvi la cosa quindi non è da preoccuparsi ragazzi non c'è niente di di allarmante ok ciao paolo carissimo paolo come stai papà paolo fiore tra l'altro l'altro giorno ho visto i tuoi bigliettini da visita da andro e volevo volevo scrivere un cartello comprate questa consulenza però sopra con la freccia però non ho fatto non vi preoccupate per sta gdpr state fermi non fate niente non fate cazzate prendetela con calma quando ragazzi quando tutti fanno una cosa voi fatene esattamente un'altra ieri abbiamo perso un sacco di soldi per colpa dell'aggiornamento dell'algoritmo di facebook le campagne altospendenti non mi sono girate abbiamo fatto abbiamo perso un casino di soldi questo perché l'algoritmo si stava aggiornando questi sono problemi non è il problema della gdpr adesso cosa faccio se il tuo database l'hai costruito in maniera consona legale quindi hai avuto i consensi quindi hai preso avevi hai nel tuo autorespondere il consenso stai tranquillo che non ti può succedere niente la cosa che possono fare è chiederti perché adesso le persone si sono rincoglionite con sta gdpr e adesso pretendono di sapere quando ti hanno dato il consenso quindi in realtà adesso non ci ti rompi i coglioni che quando gli mandano mail ti dicono eh ti denuncio mi devi dire quando ti ho dato il consenso e tu glielo tiri fuori brutto stronzo me l'hai dato questo giorno e poi non ti rispondono più questo è quello che succede quindi le persone quando succedono questi eventi di massa rincoglioniscono non vi preoccupate adesso è un periodo di transizione le persone si abitueranno e poi sarà tutto normale quindi lasciate non vi agitate mi hanno chiesto ieri di fare un video sulla gdpr per spiegarla non la spiegherò mai la odio vedete se va per i cazzi vostri quello che vi posso dire il mio consiglio spassionato è calmatevi non c'è niente da allarmarsi va bene non vi arriverà una multa che vi rovina la vita domani e se vi arriva cazzi vostri perché avete fatto qualcosa che non andava bene prima non succederà non abbiamo un governo daranno sicuramente una deroga a questa cosa una proroga quindi ciao bruna ciao angela non c'è non è c'è motivo di allarmarsi questo è l'argomento del giorno c'è un sacco di gente che sta facendo soldi su sta cosa io non volevo fare un video me l'avete chiesto lo faccio per dirvi la mia non me ne frega un cazzo della gdpr le persone ignoranti stanno facendo un baccano enorme perché non capiscono un cazzo di questa normativa basta poco andate su ubenda.it.com vedete cosa potete fare con 19 euro l'anno che praticamente vi risolve la situazione poi aspettate e boh per chi prende il consenso fisico c'è una cosa difficile ragazzi è più semplice di quello che sembra il problema è la paura le persone si fanno prendere dalla paura e fanno bordelli io ieri gli ho detto abbiamo perso un sacco di soldi non siamo cioè le campagne in spagna mi giravano bene non c'è stato problema probabilmente gli spagnoli sono più non gliene frega un cazzo di stagli br invece le campagne in italia non mi sono andate e per proprio per l'aggiornamento algoritmo invece ho avuto proprio dei problemi che le campagne non spendevano voi immaginate che quando avete una disponibilità di poter spendere 5-6 mila euro al giorno di ads ovviamente perché ne guadagnate di più su quel tipo di business quando vi fermano le campagne e non spendono quindi tutto a posto account pulito account non bannato e vedi quei 5 mila euro che non spendono dicendo i coglioni e questo perché purtroppo facebook è così nella storia ha fatto sempre così vi ricordate quando ci sono state le elezioni quando ci sono state le elezioni successa la stessa cosa facebook si impalla facebook quando si aggiorna fa così noi dipendiamo al 100 per cento dalle sue decisioni quindi in realtà dobbiamo calmarci prendere la cosa con filosofia ci sta per quanto riguarda invece la gdpr per noi ciao susi dovete assolutamente non fare quello che fanno tutti ora non è il momento di allarmarsi non è il momento di correre fare puttanate non è il momento di accettare a contratti da mille euro l'anno per la gdpr non ora ok prendetevi un attimo che passi sto periodo soprattutto in questi due giorni tra l'altro andate voglio fare proprio una cosa vado su vado su google trends e voglio proprio andare a vedere cosa questa gdpr maledetta ha fatto ieri quindi per chi non lo conoscesse google trends è un servizio che rilascia gratuitamente google dove ciao tiziano dove puoi andare a fare delle ricerche sui trend quindi dice guarda questo trend nel periodo storico x ha registrato tot ricerche di fatti ieri ha avuto un picco pazzesco la ricerca del gdpr andate a vedervelo vi metto il link sulla chat vediamo un po dovrebbe funzionare fa scassare andate su google trend e vediamo un po se funziona guardatevi su gdpr mi fa ridere quindi ragazzi ciao georgia non non andate in palla non fate quello che fanno tutti quanti mettete soprattutto un po di like al mio video e fate passare questo periodo non non fate puttanate fregatevene un attimo nel senso di se avete fatto le cose bene prima non c'è motivo oggi di correre questo adeguamento che l'adeguamento la gente non sa neanche cos'è a cosa si deve adeguare ciao davide finalmente ti ho educato a salutarmi a dirmi che prima saluti giustamente e poi a fare domande non vi allarmate continuate a prendere il consenso delle cose aspettate fate quello che avete sempre fatto se qualcuno vi rompe i coglioni dimostrateli che come avete ottenuto questo contatto e vedrete che tanto multe non ne avrete adeguare adeguarsi significa vedere quello che succederà o non abbiamo una legge seria una cosa se non abbiamo un governo cosa cazzo dobbiamo adeguarci ieri la gente è impazzita è impazzita non mandate un cazzo i vostri contatti state fermi soprattutto perché cosa fa ieri avete ricevuto ditemi voi rispondetemi ragazzi avete ricevuto email di adeguamento gdpr privacy cazzo in culo ditemelo se l'avete ricevuto sicuramente sì cosa avete fatto avete risposto a tutte quanti avete adeguato tutto no ok quindi anche se tu dovessi riadeguare tutto il tuo database alla gdpr o la facevi prima o se l'hai fatto ieri nessuno ti avrebbe risposto perché è il momento sbagliato sono corsi tutti quindi in realtà no mandate un cazzo è il momento sbagliato la gente ragazzi è una questione di di testa cioè se voi capite come funzionano le cose online ieri non è nel momento di fare una cosa del genere perché avevate una concorrenza tale per cui non avreste avuto risultato ieri c'è un processo che si chiama hiding no ovvero che sparisce dopo un po' quando ricevi la troppa smerda uguale che non è una differenza non la vedi più cioè ti si cancela dagli occhi non ci fai più caso come quando non vedi più una cosa su facebook è un fenomeno non non era il momento giusto di fare questa cosa qua sei diventato scurrile sono ancora bravo sono sempre stato scurrile io in realtà ma sai perché dico così se ecco adesso vi racconto una cosa che sarà un po' interessante io non sono scurrile in realtà il mio modo di parlare è un modo di comunicare che serve per rimanerti nella capoccia quindi quando dico un qualcosa e lo sottolineo con una parolaccia sono certo che te lo ricordi meglio perché metto enfasi nella frase soprattutto perché mi viene spontaneo quando una persona parla in maniera noiosa te la ricorderai subito dai tuoi professori del liceo o delle medie, delle elementari non ti ricordi quelli che dicono nel parolaccio ovviamente o se c'è quello che dice la parolaccia te lo ricordi sicuro però non te lo ricordi ma ti ricordi quello che ha un po' più di carica e di enfasi quando parla quando invece trovi quel piattume anche su duvalle cioè non te lo ricordi vi ricorderò sempre uno dei corsi copy che ho fatto in aula più belli ho esordito dicendo ragazzi siete tutti degli stronzi e queste persone non mi conoscevano poi ho detto alt è un esperimento che sto facendo scommettete che da oggi in poi non vi dimenticherete mai più il mio ingresso in questa stanza e tutti hanno convenuto che era vero perché se io dopo fra dieci anni vi chiederò cosa disse Marco Doria quel giorno in aula che siamo stronzi te lo ricordi è fatto apposta non l'ho inventato io il modo di comunicare chiaramente che a me viene spontaneo Anthony Robbins è il primo più grande formatore del mondo fa anche così non è che io lo copio e mi viene spontaneo però chi mi conosce lo sa non è che sono una persona una zarra una zappa cioè dico delle parole in un certo modo per fartene ricordare meglio per mettere enfasi soprattutto per farci anche ogni tanto per alleggerire qualche argomento perché è anche proprio così il mio carattere ciao Gino ciao Gino ti sei adeguato alla GDPR prendi un pintone nel tuo vino te lo spacchi in testa e mandi quel video ai tuoi contatti quello gli dici questo è il mio adeguamento alla GDPR non fate cazzate ragazzi non correte in allarmismi non è il momento giusto ok non sono il vostro legale quindi non vi dirò devi fare questo questo quest'altro ma l'unica cosa che vi posso dire è che ci sono dei siti apposta prendetevela con calma andate su Ubenda ci sono servizi a 19 euro l'anno che vi risolvono il problema ci va un attimino solo per mettersi lì e capire come fare non fate niente non mandate niente ai vostri contatti soprattutto tra ieri e oggi non fatelo perché ieri cosa è successo Benito il mio prof d'inglese pugni sui tavoli ci rompeva le biro giusto vedi che te lo ricordi bene scommetto che oggi nutri anche un po' di affetto per il tuo professore Benito quindi in realtà vedrete che alla fine ho ragione fate fare agli altri tanto a ieri ho ricevuto 30.000 e-mail di adeguamento GDPR ok non ne ho letta neanche una le ho odiate tutti e 30.000 non ne aprirò mai una non cliccherò mai perché siete degli stronzi ecco come la penso non lo faccio semplicemente perché allora non hai ragionato in termini giusti in termini di conversione in termini di imprenditori non fare la cosa un momento storico sbagliato ma l'hai fatta perché ti volevi lavare le mani quindi ok l'ho fatto buon fine allora tanto era simpatico quanto me spero di più spero di più Massimo mettete un po' di like tirchi di like che non siete altro perché io qua come voi sono il sabato a mezzogiorno e mezza a parlarvi di GDPR con il mio bel simbolino del medio di fianco al titolo che tra l'altro è un noto che piace tantissimo come dicevo ieri è stata una giornata del cazzo brutta siamo stati invasi da richieste da mail da messaggi gente impanicata che mi scrive cosa devo fare c'è gente che mi chiede Marco fai una diretta non farò niente io ieri proprio silenzio stampa di proposito fategli fare agli altri non so se c'è qualcuno che mi ha fatto richiesta ha detto ah sì oggi facciamo due chiacchiere ma ragazzi lo sapete come il mio non è un modo irresponsabile di prendere la cosa questo è il mio è il modo più responsabile che ci possa essere nel senso che le cose le devi sapere ok adeguarti dovevi adeguarti prima del 25 che cazzo era la legge non è chiara non abbiamo un governo probabilmente sarà una proroga delle deroghe ci saranno dei cambiamenti sicuramente o la semplificheranno o comunque la cambieranno questo è poco ma sicuro a breve sicuramente quando entrerà il nuovo governo quando mandare secondo te mi dice Massimo ragazzi non lo so non lo so per niente in teoria se tu hai fatto tutto bene non ti allarmare più che altro adeguati per i prossimi contatti che prenderai ok adesso ci deve essere la possibilità di poter modificare questo benedetto con senso doppio quindi oltre a eliminare deve esserci la possibilità di cambiare ma basta che voi diate una mail per dire se caro mio contatto di merda ti odio virgola ti odio punto a capo se ti sto in culo vai via dalla mia vita questo è il link per uscire se vuoi cambiare sti benedetti termini perché tanto non sai neanche tu cosa sono sti termini ma vuoi romper mille palle scrivimi a questa mail altrimenti continua a fare quello che hai fatto leggile le mie mail e non mi sfracicare i coglioni con sto GDPR perché vi dico la verità io ho visto un allarmismo visto c'è proprio un comportamento della massa delle persone idiote non voglio dire che sono perché sono anch'io io sono il primo degli idioti però vedendo vedendo le persone che da una parte cercavano chi aveva interesse economico ha messo paura nelle persone devi adeguarti se lo prenderai sul penale 300 miliardi di euro di multa i tuoi figli saranno condannati tutta la vita a essere schiavi nelle miniere di carbonia ok d'altra parte gruppi facebook che parlavano di questo argomento cioè devi fare così no devi fare così questo va bene lo scroll non va bene i cookie dall'altra parte le aziende aiuto adeguamento email d'altra parte ancora le persone che dicevano mi hai scritto una mail e il consenso dov'è sappi che ti posso denunciare sì denunciami cioè ragazzi vi mando lo screen c'è persone che dall'alto della loro sapienza tu devi essere adeguato adesso se non mi dai esattamente quando ti ho dato il consenso ti denuncio il garante della privacy mi dovrai pagare risarcimento sì ti pagherò fidati questo è il pagamento che ti faccio non ti darò una lira denunciami e anzi ti denuncio prima io e facciamo facciamo prima non ci sono gli estremi per fare una denuncia del genere ragazzi la prima cosa che funziona è il buon senso va bene se voi avete ottenuto i dati in maniera legale avete chiesto il consenso tutto quanto oggi non avete questo problema ok nelle prossime mail che scriverete cominciate a dire ragazzi se volete cancellarvi cambiare le cose mandatemi una mail intanto che cercheremo di capire cosa fare perché non è ancora ben chiaro poi ci sono servizi come iubenda che vi mettono a posto il sito c'è il loro legale potete fare la consulenza non fatevi prendere da allarmismi che sono inutili ciao Vale se vi parlo della legge sui fitosanitari quattro anni direvo che nessuno sa ancora come comportarsi vero Bruna dice tu orari migliori no io vi lascio vi sentirei di ferita sì mi piace fare dirette in orari del cazzo pensavo alla notte non so se di notte voi ciao francesca gatto ti sei adeguata alla gdpr non so se di notte voi dormite o aspettate come faccio io e quindi potrei fare delle dirette notturne in realtà stavo pensando di da mezzanotte alle 8 di trasmettere in diretta chi vuole 8 ore continue di sproloqui di sproloqui di marco doria ok per chi si è connesso adesso ragazzi non fate un cazzo non fate niente non toccate niente non fate gdpr niente non rompete il gdpr alla gente non mandate mail continuate a fare le cose come sono che sono nata adeguata alla gdpr bravissima fate le cose fate prevalere il buon senso finché non sapremo cosa fare è inutile correre allarmismi ieri sono arrivati 8 miliardi di email e nessuno ne ha aperta neanche una i grandi geni del marketing hanno avuto la bella idea di mandare una mail ieri all'ultimo secondo proprio per fare vedere che loro lo facevano in realtà hanno fatto solo casini hanno solo rotto il cazzo mi hanno fatto perdere un sacco di soldi io non ho aperto bocca ieri se non per dirvi che non ho adeguato un cazzo non ho adeguato un cazzo questo non vuol dire che non ero adeguato perché io i consensi ce li ho poi magari adesso non ho la doppia spunta c'è il mio tecnico che ci sta lavorando sopra in questi giorni per mettere sta benedetta doppia spunta però qual è il grosso problema che i form non hanno la doppia spunta perché la maggior parte sono americani a meno che voi non abbiate un sistema italiano ma molto difficile europeo quindi in realtà nessuno è pronto ok gli opt-in non sono pronti è difficile che in un momento storico del genere qualcuno vi possa multare il buon senso è dire ragazzi se avete qualche se vi sto su cazzo se non volete ditelo scrivetelo rispondete io ho già avuto minacce di denuncia benché ci fosse sempre c'è sempre stato il tasto rimuovi in tutte le mail che mando io però qualche genio ci prova ci sono persone ragazzi brutte brutte che vorrebbe dire che la cosa che sarebbe da fargli è spaccargli la testa con una mazza da baseball tipo anguria perché vanno in giro a cercare di truffare le persone e ti dicono tu sei fuori regola del gpr non mi dai 100 euro o ti denuncio e c'è gente che fa questo ce ne sono tanti sono fake tanti sono persone vere non fatevi prendere d'allarmismi non vi possono fare nulla in questo momento prendiamola con calma e la ragioniamo col buon senso ok col buon senso ma in maniera scurrile come faccio io no scherzo il buon senso però ragazzi è la cosa che fa più cioè che comunque ha sempre la sua funzionalità perché quando puoi interpretare comunque ne vige il buon senso va bene ieri è stata una giornata dove abbiamo perso un sacco di soldi perché l'algoritmo facebook si è rincoglionito ho le campagne ferme campagne da 5.000 euro al giorno inchiodate capirete che con quei soldi là non si può fare niente ciao repo quando vi si bloccano ok mi scrive Valerio Conti ciao Vale sono in diretta ok tra l'altro a breve faremo questa settimana parte instastart ok già ve lo dico per chi è connesso in questo momento ci sarà il lancio il corso è pronto quindi state keep in touch che vi mando una bella GDPR mail dove faremo sto lancio martedì penso di essere pronto martedì apriamo il carrello le condizioni prima non le sapete chi l'ha già comprato non lo compri chi ha comprato il pacchetto completo non compri partiremo con instagram sarà una bomba martedì vi dico anche quando sarà la data del webinar quando registriamo io e Luca saremo insieme a fare questo webinar ci sarà un webinar di valore perché questo è un corso come l'abbiamo fatto come l'abbiamo studiato come gli altri è un corso che dice praticamente molto focalizzato sulle cose da fare sulle cose da non fare che ti dice veramente quello che puoi ottenere quello che non puoi ottenere da instagram i diversi le diversi proprio approcci che puoi avere ok diversi approcci che puoi avere in base al tuo pubblico al tuo tipo di esercizio al tuo tipo di business al tuo tipo di investimento e via dicendo quindi in realtà molto schematico come abbiamo fatto gli altri in maniera semplificata fai questo questo e quest'altro quindi per aiutarvi devo mettere in area riservata i tutorial anche del corso facebook non demordetti ci sono sono stati i giorni scusatevi un po' incasinati ma sapete che non vi mollo e martedì ci sarà il lancio di instagram sono molto contento per questo corso instagram perché io non sono un super esperto di instagram se vedete il mio profilo fa cagare anche perché dopo un po' l'ho mollato quindi ho il contrario se ho più follower che gente che seguo che mi segue scusate e quindi non l'ho seguito molto però Luca è molto bravo in questo segue dei profili molto bene molto grossi ero indeciso se farlo o meno perché comunque non è un settore di mia competenza però siccome con Luca collaboriamo molto bene su questo argomento ho detto si facciamoci un corso che finirà poi nella mia super big academy che sarà lanciata a giugno e sarà una bomba quella ragazzi perché ci sto lavorando ovviamente da tanto sarà il mio corso definitivo sempre che si aggiornerà sempre e scremerà molto chi mi segue perché poi io venderò solo più quel corso e inserirò dentro tutti i corsini piccoli li inserirò ancora dentro quel maxi corso quindi in realtà per chi vuole seguirmi deve fare quel percorso va bene ragazzi quindi allora vi auguro un buon GDPR sabato a tutti non mi rompete i coglioni vi prego con email di GDPR perché tanto non le apro non le leggo questa piccola direttina serviva appunto per farvi sapere come la penso sull'argomento grazie per i like vi auguro un buon weekend se avete qualche domanda non me la fate perché non lo voglio di rispondere oppure aspettate la prossima live ciao ragazzi lo sapete che scherzo vi voglio bene ciao a tutti e buon GDPR ciao ciao ciao